Dalla Commissione europea arriva il via libera sulle modifiche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentate dall'Italia, che includono anche un nuovo capitolo su Repower EU. Il PNRR italiano ora vale 194,4 miliardi di euro per effetto dei 2,7 miliardi del Repower ed il ricalcolo di 146 milioni della parte sovvenzioni, prevedendo 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originale e 150 investimenti. Con la rimodulazione del piano il Governo ha potuto liberare 21 miliardi di euro circa da destinare proprio alle imprese. Il piano inoltre prevede anche un taglio dei sussidi ambientalmente dannosi per 2 miliardi di euro alla 2026. La rimodulazione del PNRR, noi abbiamo avuto l'ok dalla Commissione europea lo scorso 23-24 novembre, adesso ovviamente c'è il passaggio nel Consiglio, dopodiché sarà definitivo. È una rimodulazione alla quale nessuno credeva, se non noi, e che ci ha permesso quindi di recuperare dei fondi dal capitolo Repower EU, che sono fondi fondamentali per le imprese. Cioè abbiamo recuperato complessivamente quasi 22 miliardi da destinare alle imprese circa 13 miliardi, che non è poca cosa in due anni. Quindi significa la possibilità di poter fare degli investimenti grandi, determinanti, perché confluiscono in parte in industria 4.0 e l'altra parte, quella più consistente, in industria 5.0. ed è questa una rivoluzione. E poi la cosa fondamentale è che non solo abbiamo riscosso la terza rata, la Commissione ci ha fatto i complimenti per aver realizzato tutti e 28 gli obiettivi e siamo per riscuotere la quarta rata, siamo l'unico paese in Europa. E questo, devo dire, è motivo di grande soddisfazione.